Per il settimo anno consecutivo ad Arezzo arriva la carovana antimafia. Che cosa prevede la giornata? Il 21 di aprile arriva la carovana antimafia, appunto perché è una carovana a tappe diverse nella nostra provincia. Al primo ci fermiamo a Poppi e affrontiamo una tematica importante che è appunto quella in periodo di crisi che significa il lavoro nero e il caporalato. Per cui parlare di questi argomenti è fondamentale per ristabilire dignità al lavoratore e all'imprenditore. Poi continuiamo la nostra, discendiamo verso Arezzo. Prima ci fermiamo a pranzo con prodotti offerti da coloro che quotidianamente combattono le mafie e quindi cortivano i terreni confiscati dalla mafia e il pomeriggio, grazie al Giardino delle Idee, un incontro importantissimo con il procuratore nazionale antimafia, Grasso. E proseguiamo una serata dandoci appuntamento a Villa Severi alle 20 e 30 per la scena della legalità. Ormai sono più di 7 anni, 8 anni che comunque lavoriamo su questo tema in questo territorio, però non lo facciamo da soli e questo è molto importante. Lo facciamo con tutte quelle realtà del modo del lavoro, del modo dell'associazionismo, della cooperazione che credono nella legalità come strumento, non come fine. Perché ce lo ricordava Don Ciotti nell'incontro alla Borsa Merci di qualche settimana fa, la legalità è lo strumento per raggiungere la giustizia sociale, non è il fine. La giustizia sociale non può esistere se no in un territorio per esempio dove avviene il caporalato e per questo affrontiamo questo tema. Non può esistere secondo noi in un territorio dove tantissima gente si indebita per colpa di videopoker.